Abbiamo inviato al Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo il dossier con cui Padula si candida ufficialmente a Capitale Italiana della Cultura 2022. Lo ha annunciato l'assessore Filomena Chiappardo. È un sogno, una sfida. Nel dossier dice abbiamo raccontato la nostra realtà partendo dalla bellezza nella quale siamo immersi, programmando il futuro e tante nuove attività. Il lavoro di redazione del dossier è continuato anche durante il lockdown, grazie ad un gruppo eccezionale che crede con forza nel progetto di valorizzazione che con impegno e sacrificio stiamo realizzando giorno dopo giorno. Grazie di cuore conclude a tutti coloro che hanno dato il loro contributo con passione. Era lo scorso dicembre quando l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Imparato aveva deciso di avanzare la candidatura e provarci, provare a stare per un intero anno sotto i riflettori nazionali, mettendo in mostra la vitalità e lo sviluppo culturale di Padula. Al di là delle intenzioni, il passaggio fondamentale per ottenere il titolo e di conseguenza i finanziamenti è rappresentato dal dossier relativo al progetto di promozione e valorizzazione culturale del territorio di riferimento. Avrebbe dovuto essere consegnato entro marzo, ma il Covid ha fatto slittare i termini di presentazione ad oggi, 31 luglio. Il dossier inviato da Padula sarà presentato poi incertosa il 6 agosto. Intanto la giuria esaminerà le candidature entro il 12 ottobre e selezionerà un massimo di 10 progetti finalisti. Entro il 12 novembre poi raccomanderà al Ministro la candidatura del Comune, della città metropolitano, dell'Unione di Comuni, ritenuta più idonea ad essere insegnita del titolo. Parma è la capitale italiana della cultura 2020, con un intenso calendario di eventi che purtroppo è stato annullato, quindi rimarrà capitale italiana della cultura anche per il 2021, il nuovo titolo a cui Padula ambisce solo nel 2022.